A tutti buonasera da Ripodromo Savio di Cesena. La prima corsa di questo venerdì 5 agosto, riservata agli aspiranti allievi, che chiuderanno anche la serata. La prima vede il ritiro di Saffir Horse, questo schieramento, uno Victor Leo, due Belba Baggins, tre Blue Moon, quattro Blue Moon, cinque Andreotti, G&G, sei Villar, seconda linea, sette, unico Giacciva, otto Byron del Ronco. I favori sono netti per il numero quattro Blue Moon, macchina che accelera, partiti con tentativo dall'esterno di Villar di assumere l'iniziativa. All'interno però... Numero due, Belba Baggins, squalificato. Victor Leo, intanto lo squalifica per Belba Baggins, insiste Villar a largo, attacca con decisione, mentre più indietro c'è Blue Moon. Insiste Villar all'esterno di Victor Leo, si avvantaggia e passa a condurre dopo 400 metri, coperti però in 29,4, con spesa quindi Villar in testa nei confronti di Victor Leo. Leo muove ora dalla terza posizione Blue Moon, che si porta in breve sul nuovo battistrada, 600 metri, completati in 45 netto, davanti alle tribune. In vantaggio è sempre Villar nei confronti di Blue Moon, seconda pariglia con Victor Leo, che è raggiunto da Andreotti G e G. Seguono poi Unico Giacciba e Byron del Ronco, intanto 59,9 per gli 800 metri iniziali, il chilometro che se ne va con tempo di 1,15 e 1. I primi due prendono vantaggio, mentre cala Victor Leo, a 500 dalla conclusione, passa in terza posizione Andreotti G e G. Siamo a 400 dal palo, con ancora tentativo rinnovato da parte di Blue Moon su Villar che replica, Villar a metà curva ancora in vantaggio, ma ha messo qualcosa davanti l'avversario. Intanto c'è lo scatto in terza ruota di Byron del Ronco, Byron del Ronco in terza ruota è quello che forse ne ha più di tutti. A centropista è Byron del Ronco che viene a vincere nettamente, il secondo posto è per Blue Moon che nel finale ha ragione di Andreotti G e G che coglie il terzo posto. La vittoria quindi per l'outsider Byron del Ronco che ha corso all'estrema attesa. Andiamo a rivedere le fasi finali con Giovane Mollo a siglare questa prima corsa al Savio, tra gli aspiranti allievi, Byron del Ronco che viene a vincere, Giuseppe Conticelli al training e Filippo Cimino come proprietario. Grazie a tutti.